Buonasera, migliaia di persone hanno preso parte oggi ad Imperio, la giornata dedicata alla memoria delle vittime delle mafie. Questa mattina due cortei, partiti dalle stazioni di Porto Maurizio e Doneglia, si sono incontrati al Parco Urbano. Le iniziative sono proseguite anche nel pomeriggio con incontri e convegni. Vediamo. Signor Prefetto, una giornata molto importante. Tante persone riunite qui per un momento di testimonianza. Sì, trovo che sia un appuntamento di grandissimo spessore, di grandissimo rilievo per questa provincia, per la Regione, che da una parte richiama l'attenzione su un tema sul quale tutti dobbiamo avere sempre la guardia molto alta, dall'altra testimonia le capacità e la validità di un'associazione che da tempo lavora in questo settore, che ha dato tantissimi risultati, che ancora oggi permette il recupero ad un'economia sana di zone che finora erano sottratte alla disponibilità della società. Quindi credo che sia importante e che testimoniare anche i meriti di cui questa associazione ha avuto fino ad oggi in questo specifico segmento della nostra società. Il significato di avere tanti giovani? Beh, è fondamentale perché probabilmente segue anche un'attività che non si esaurisce naturalmente nella giornata di oggi, ma che ha alle spalle un percorso di legalità che da tempo si fa nelle scuole, soprattutto nelle scuole, nella convinzione di cui credo tutti siamo perfettamente consapevoli che una buona educazione della legalità comincia naturalmente proprio nell'età più giovane e soprattutto anche nei momenti di comunione, di associazionismo. Anche la scuola rappresenta un momento di aggregazione dei giovani e probabilmente il terreno più fertile per lanciare alcuni messaggi. Oggi la regione è presente col gonfalone a questa manifestazione nazionale di lotta alla mafia. Su questo tutti i partiti, tutte le istituzioni devono essere insieme. Il fenomeno della criminalità organizzata purtroppo ha colpito tante persone. Oggi sentiremo i nomi delle vittime. È un attacco alla civiltà, alla convivenza civile e quindi è importante oggi esserci. A dare ancora più significato a questa giornata è stata la presenza di tantissimi giovani che hanno partecipato attivamente leggendo sul palco i nomi delle vittime delle mafie. Tutte le autorità presenti hanno infatti sottolineato l'importanza che la cultura della legalità deve essere patrimonio delle nuove generazioni. Sentiamo. E allora un commento al termine di questa giornata, di questa mattinata molto intensa e anche molto emozionante. Io direi di sì, nel senso che noi abbiamo visto crescere questa giornata della memoria dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia con Libera in Liguria attraverso un lavoro capillare, scrupoloso dei coordinatori di tutti i nostri coordinamenti provinciali con un lavoro in sinergia sia con le istituzioni che con le scuole. E questi sono i risultati. Far crescere la cultura della legalità, della democrazia, della Costituzione attraverso tanti momenti di studio e di approfondimento nelle scuole ma anche attraverso momenti in cui veramente tutta la città possa vivere e condividere insieme un momento così importante, la lettura dei nomi delle vittime innocenti. Il 21 marzo è stata riconosciuta ufficialmente dallo Stato italiano e dal Parlamento come la giornata che ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie. E' quindi una giornata che ogni anno, a cadenza regolare, in una città capoluogo della Liguria vedrà partecipare tutte le province. Oggi qui erano presenti tutte le città, da Sarzana a Ventimiglia. Quindi è bello poter dire che in questi vent'anni di storia di Libera si sia raggiunto un grande risultato di far sentire e partecipare insieme le istituzioni, il mondo della scuola e tutta la cittadinanza ad un momento importante per ricordare chi ha battuto, chi è purtroppo caduto nello svolgimento del proprio servizio o perché appunto si è trovato di fronte a situazioni che l'hanno portata a morire a causa delle mafie. La cultura della legalità nasce nei giovani? Sì, Libera nasce nel 1996 con l'intento di far costruire percorsi di cittadinanza per le giovani generazioni e non è un caso che Libera è anche un'associazione che è guidata da giovani, giovani che se ne assumono la responsabilità operativa, che si assumano l'impegno di seguire con tante ore di volontariato attività di formazione e poi di organizzare eventi come questi. Noi crediamo che attraverso l'educazione alla legalità democratica nelle scuole si possano costruire dei cittadini più responsabili in ogni segmento della società, quindi cittadini che facciano cambiare in meglio il nostro paese. Intanto la gioia più grande è quella di vedere tanti ragazzi qui. Infatti questa è la cosa più importante perché tutti questi ragazzi sono davvero concretamente perché sono qui presenti il legame, il trade union tra la memoria che è il senso di questa giornata e l'impegno e la responsabilità per il futuro. E poi mi pare che questi ragazzi con la loro allegria e con la loro serietà ci abbiano parlato di coraggio e di buona volontà nel guardare il futuro in un modo diverso a partire da se stessi. Mi veniva in mente un'espressione evangelica molto bella, quello che è detto nelle stanze più interne sarà predicato sui tetti e direi che questo coraggio di far emergere in questo caso le ingiustizie, le cose storte, le cose brutte per cambiarle e per costruire in modo diverso la società, questo è davvero un lievito splendido che questi giovani oggi hanno messo nel nostro mondo e soprattutto nel nostro cuore. Sentire tutti quei nomi recitati al microfono faceva venire la pelle d'oca. Faceva venire la pelle d'oca ed era emozionante nella sobrietà e nella semplicità della cerimonia però molto intensa perché non c'è altro da aggiungere, davvero il nome che ci ricorda una vita spezzata dice tutto quello che possiamo dire su questo fenomeno che vogliamo che al più presto sparisca dalla faccia della terra e dalla nostra convivenza. Andiamo ora a rivedere la cerimonia della Domenica delle Palme celebrata ieri ad Imperia dopo la benedizione di Palme Ramosciali d'Olivo presso la chiesa di Borgoperi si è svolta una processione ed infine tutti i fedeli si sono radunati nella chiesa di San Giovanni dove è stata celebrata la Santa Messa. Sentiamo Monsignor Mario Borghetti, Vescovo Cagliatore della Diocesi di Imperia al Benca. Buongiorno Borghetti abbiamo avuto occasione di sentire la sua catechesi per la preparazione alla Pasqua ora la Domenica delle Palme in San Giovanni, momenti intensi e importanti per tutti i cattolici perché è un momento di particolare riflessione. La Domenica delle Palme è sempre dovunque un momento di grande aggregazione, potremmo dire il momento delle folle che acclamano Gesù figlio di Davide che entra in Gerusalemme su un puledro inizia la grande settimana, inizia però il tempo anche che da luminoso si trasformerà per Gesù in tempo oscuro ma che poi dopo recupererà immediatamente perché ci sarà una fiammata di vite, di luce nella risurrezione. Sì, oggi per me è stata la prima volta che partecipavo alla Domenica delle Palme qui ad Imperia nella collegiata di San Giovanni Battista, Imperio Nelli ecco e effettivamente l'impressione è un'impressione di grande stupore, di meraviglia di questo accorrere dei bambini, dei ragazzi, degli adulti, decisamente ecco uno si auspica che questa accoglienza di Gesù il Messia sia permanente, ecco soprattutto oggi in un tempo complesso che anche noi possiamo accogliere come Gerusalemme accolse il figlio di Davide con questo entusiasmo, consapevoli che solo in Lui c'è la soluzione del senso della nostra vita. Ecco, è un anno di misericordia, una Pasqua di resurrezione e un invito un po' a risorgere insieme a Cristo per tutti i cristiani, per i cattolici. Diciamo, la Pasqua di resurrezione di Gesù non è solo sua Gesù risorge e ci dona lo suo spirito, lo spirito del risorto quindi ciascuno di noi innestato in Lui è un risorto il problema è attivare, vivere ecco questa resurrezione e la misericordia è proprio questo gesto supremo che il Padre ha compiuto in Cristo che ha donato la sua vita per noi, il gesto supremo di misericordia e che ci consegna, quasi a dirci anche voi, consegnate la vostra vita e allora il mondo cambia. Un momento anche per riflettere, riflettere che la Pasqua non è soltanto le uova l'aspetto commerciale, sicuramente la festa per i bambini, tutto quello che si vuole ma è un momento appunto di grande spiritualità. Direi che è il massimo, siamo all'apice, siamo sull'Everest dell'esperienza cristiana perché se Gesù non è risorto, vana è la nostra fede dice il grande apostolo delle genti, San Paolo ma non è perché lo dice lui che è vero, è perché è vero è per quello che lo dice, ecco ed è il grande annuncio del giorno di Pasqua questo è il giorno che ha fatto il Signore se Gesù è risorto, anche ciascuno di noi ha questa possibilità e credo accogliere questa possibilità vuol dire diventare dei trasformatori del mondo proprio nella logica e nella vita della risurrezione è vero E' stata celebrata anche presso la residenza Anni Azzurri Franchiolo di Sanremo, la Santa Messa della Benedizione delle Palme e degli Olivi. La lavorazione delle palme è stato il frutto di un laboratorio che da anni viene proposto all'interno della residenza. Padre Cristoforo ha dato il rappuntamento agli ospiti della struttura il giorno di Pasqua per festeggiare la solennità ancora una volta insieme. E voltiamo decisamente pagina a Davide Piazzi, il nuovo segretario regionale della FAICISL, la Federazione Agricola, Alimentare, Ambientale e Industriale. La sua elezione è avvenuta questa mattina ad Imperia alla presenza del segretario nazionale del FAICISL, Luigi Sbarba. Davide Piazzi, il nuovo segretario regionale della FAICISL, che è la federazione che si occupa del settore agricolo, alimentare, ambientale, industriale e italiano. Ecco, tra l'altro Piazzi ci siamo già incontrati sul campo per la vicenda Agnesi, già era segretario provinciale di FAICISL. Adesso questo nuovo incarico è sicuramente una responsabilità in più, possiamo dire. Sì, assolutamente. Una sfida alla quale ho voluto partecipare col cuore, perché mi sento in dovere di rappresentare e di difendere i LAVI, non solo di Imperia Savona come attualmente facevo, ma adesso anche di tutta la Liguria. E' citato l'Agnesi prima. Purtroppo continua, continuano le trattative. Infatti anche oggi presso un incontro a breve con un nuovo tavolo con le forze politiche. Speriamo, abbiamo l'11 di aprile un ulteriore incontro in programma con l'azienda Colussi, ma era un incontro già fissato a suo tempo, era una scaletta che avevamo organizzato direttamente con l'azienda. Si spera che la Regione a breve convochi l'azienda, in modo tale che poi dopo ci sia questo famoso tavolo unitario, in modo tale da vedere il possibile, quello che si può fare. E purtroppo non è l'unico problema quello di Agnesi, perché appunto spostandoci sul piano regionale, anche nella vicina provincia di Savona, sempre oggi ci sono in programma incontri, ad esempio per la Piaggio, che doveva essere diciamo una speranza con questo nuovo stabilimento, invece adesso sta dando preoccupazioni. Insomma c'è grande attenzione un po' su tutto il settore. Sì, diciamo che purtroppo la Liguria non vive un periodo felice. Il 2016 è iniziato non nel migliore dei modi, anzi. La crisi non riguarda solo il nostro settore agroalimentare, ma anche tutti gli altri settori in generale. Nessuno è risparmiato. Quindi ci attenderà a me e ai miei colleghi un 2016 molto fitto di impegni per cercare di tutelare al meglio possibile i lavoratori. E a tenere a battesimo un'elezione di Davide Piazzi alla segreteria regionale, anzi come segretario regionale di Fai Cisle, c'è anche Luigi Sbarra che è il segretario nazionale di questo sindacato, che si occupa di un settore fondamentale, anzi di più settori fondamentali per il nostro Paese. Ecco, una situazione regionale che preoccupa, ma purtroppo dovremmo dire che forse è una situazione nazionale che preoccupa. Sì, la condizione economica e sociale del Paese continua a manifestare una condizione di criticità, anche se timidi, parziali, segnali di controtendenza rispetto agli anni peggiori della crisi sembrano venire avanti. Ecco perché come Cisle stiamo ponendo tre grandi necessità da affrontare e risolvere con il governo del Paese. C'è da rimodulare e riformare questo sistema fiscale assolutamente odioso, soprattutto per i redditi da lavoro dipendente e da pensione, tagliare l'IRPEF, sostenere la famiglia, scatenare un'offensiva forte a tutto ciò che è evasione dell'usione fiscale. Riformare il sistema fiscale significa mettere nelle condizioni il Paese di riassaporare prospettive di crescita e di sviluppo nella prospettiva di muovere la domanda interna, far ripartire i consumi e per fare questo servono più risorse, più liquidità alle persone che noi rappresentiamo. Secondo tema è come superiamo questa odiosa legge Fornero in materia di pensione. I giovani fanno fatica ad entrare nel mercato del lavoro non solo per la pesantezza della crisi recessiva, ma anche perché da anni in questo Paese si è bloccato ogni forma di turnover nel pubblico e nel privato. Modificare la Fornero significa creare flessibilità in uscita dal mercato del lavoro e con questo risponderemmo a due grandi obiettivi. Da un lato il tema dei lavoratori anziani coinvolti nelle crisi aziendali e dall'altro alimenteremmo un circuito di un nuovo patto intergenerazionale tra i giovani e i anziani. Il terzo tema è come costruiamo un patto sociale per la crescita del Paese, per lo sviluppo, per la coesione sociale. I posti di lavoro arrivano se ripartono gli investimenti pubblici e privati. I posti di lavoro arrivano se il Paese si dà uno straccio di politica industriale che manca da più di 25 anni. Se utilizziamo bene le risorse della Unione Europea, e questa regione ha importanti risorse da spendere e da impegnare. Se rimoduliamo e riformiamo il sistema del welfare e della protezione sociale. Sono questi i temi che noi ci sentiamo come CISL e come FAI di sostenere nel rapporto col governo. Le politiche dell'agroalimentare sono centrali. In questi anni di crisi l'agroalimentare si è rivelato una sorta di settore anticiclico, nel senso che l'agricoltura, l'industria alimentare, le politiche ambientali si sono difese meglio di altri comparti e di settori. Bisogna a livello nazionale e a livello regionale fare dell'agroalimentare italiano il volano per la crescita e lo sviluppo. Io penso che la nostra iniziativa serva ad incoraggiare questa propensione, a stimolare questa responsabilità, a rappresentare e tutelare il mondo del lavoro italiano. C'è stato un incontro questa mattina nella sede di Forza Italia ad Imperia, fra CGL e CISL Will, e l'europarlamentare Alberto Ciri, accompagnato dall'assessore regionale Marco Scaiola. La riunione chiesta dai sindacati è servita per coinvolgere Ciri in un'azione a livello europeo a sostegno della permanenza d'imperio e della produzione di pasta Agnesi di servizio. Con CGL e CISL Will, Agnesi, il tema principale. Mi pare di capire che prima di vedere che cosa l'Europa può dare eventualmente al gruppo Colussi, lei abbia detto che controlliamo e cominciamo e partiamo da quello che gli ha già dato. Facciamo una verifica di quelli che sono i contributi e di quello che poi è l'impegno sul territorio. Io credo che questa materia e questa questione vada seguita con assoluta determinazione e chiarezza. Parliamo di oltre 100 famiglie che rischiano di non avere uno stipendio alla fine del mese per questa situazione che non è accettabile, soprattutto per la sua mancanza assoluta di chiarezza. Io come parlamentare europeo, oggi su invito dell'assessore Scaiola, sono qua a dire sostanzialmente che se il gruppo Colussi non ha preso contributi europei in passato per sostenere la sua attività, è stato un errore nella capacità gestionale del gruppo ed è una cosa che dobbiamo risolvere perché forse magari grazie ai fondi europei si riescono a salvare stabilimenti come quello dell'Agnesi d'Imperia. Se invece gli ha già presi, allora a maggior ragione potremmo dire che non ha senso continuare a prendere risorse da Bruxelles e non garantire i posti di lavoro. In entrambe le situazioni, quindi che questa verifica di esito positivo o negativo, l'azienda deve prendersi le sue responsabilità e soprattutto non può non dare un futuro certo a centinaia di persone. I timori rimangono comunque, questa assenza di piano lascia quasi intendere che un piano in realtà ci sia e non venga rivelato. A volte nelle trattative con aziende che sono in momenti di difficoltà e di crisi si vede quello, che quando si vuole tenere un panorama con le nubi è perché dietro le nubi si vuole nascondere un qualcosa che forse non è ancora il momento di chiarire. Ma le istituzioni servono a questo, servono per tutelare questi 103-104 lavoratori che ci sono in quell'azienda. Il Comune d'Imperia ha fatto la sua parte, la Regione Liguria sta facendo la sua parte. Sono tutti pronti a dire al gruppo Colussi cosa avete bisogno, di cosa avete bisogno da noi per continuare a rimanere aperti sul territorio. A oggi, per mia voce, ma sicuramente parlo a nome anche dei colleghi parlamentari di quest'area geografica del nord-ovest d'Italia, si dice che anche l'Europa è pronta a fare la sua parte. Se non l'ha fatta fino ad oggi, da domani può farla, se invece l'ha fatta, a maggior ragione usiamo questi fondi europei per garantire i posti di lavoro che oggi sono la prima grande necessità che noi dobbiamo garantire alla nostra gente. Assessore Marco Scaiola, in questo incontro con i sindacati, l'On. Ciri, un incontro chiesto proprio dai sindacati emerge anche un dato importante, la necessità di fare un fronte comune di tutte le realtà politiche del territorio comune e regione, in questo caso al di là dei colori politici. Ma senz'altro, il tema dell'Agnesi deve essere un tema condiviso da tutti e a cuore a tutti. Le istituzioni possono fare sulla vicenda, comune, regione, e quindi credo che sia fondamentale una sinergia perché se ognuno di noi cominciasse a fare lo scaricabarili sull'altro non si raggiungerebbe nessun risultato. È ovvio che bisogna capire però le intenzioni di Colussi. Colussi deve giocare una partita a carte scoperte perché sono oramai tre anni dal 2013 che si sente un pezzo alla volta, uno smantellamento alla volta e questo credo che non sia tollerabile. I miei colleghi Rixi e Berrino stanno facendo un ottimo lavoro per lo sviluppo economico e proprio la delega al lavoro per tutelare e dare una possibilità di futuro a questa azienda ma soprattutto ai nostri lavoratori. Io poi sono d'Imperia e quindi ho particolarmente a cuore la vicenda Agnesi. Oggi abbiamo fatto questo incontro grazie anche all'onorevole Alberto Cirio che è venuto proprio apposta per incontrare e per capire anche queste problematiche portarle in seno al Parlamento europeo visto che anche l'Europa può entrare nel merito della vicenda Agnesi. Bisogna fare squadra, bisogna fare una sinergia. Il Presidente Totti dietro nostra richiesta incontrerà anche il privato. Il Presidente Totti che più volte è stato anche qui a Imperia a incontrare i lavoratori dell'Agnesi. Ovvero un fronte comune anche con i sindacati che noi abbiamo anche voluto ringraziare per il grande lavoro che hanno fatto tutte le categorie sindacali proprio per tutelare e difendere i posti di lavoro e questo marchio importante a tutti noi a cuore che è il Marco Agnesi. Però l'ultima parola ovviamente come giusto che sia ci mancherebbe spetta al privato. Noi al privato chiediamo ci dica che cosa vuole, ci dica quali sono i suoi progetti, ci dica anche quelle che sono le proprie difficoltà. Ci metteremo a un tavolino e tutti insieme facendo squadra nell'interesse della città d'Imperia, nell'interesse dei lavoratori, nell'interesse di questo storico marchio. Secondo me se si vuole le soluzioni si possono trovare, però bisogna volerlo. Se invece il privato ha già qualcosa in mente e non vuole dirlo, quello ovviamente è un'altra partita, ma noi auspichiamo che invece il privato voglia lavorare per restare nella città d'Imperia. Prosegue l'Imperia il dibattito sulla pedonalizzazione di Via Cascione. Ora ad essere contestata è la presenza di esponenti della maggioranza ai banchetti per la raccolta delle firme a favore del blocco al traffico. Vediamo. La pedonalizzazione di Via Cascione a Imperia poteva forse essere un'opportunità per la nostra città se fatta una decina di anni fa. A evidenziarlo il consigliere comunale d'opposizione Alessandro Casano di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, secondo il quale oggi l'isola pedonale rappresenta uno scenario di incertezza. Casano sottolinea anche che il finanziamento per i lavori di riqualificazione di Via Cascione non è vincolato alla realizzazione di un'isola pedonale e ricorda che è in atto un ricorso al TAR da parte di un gruppo di commercianti. Sempre Casano ha criticato l'atteggiamento di esponenti della maggioranza che si sono fatti fotografare vicino ai banchetti del comitato pro pedonalizzazione, riducendo la questione a una discussione da stadio. Sulla questione interviene anche Antonello Ranise, coordinatore cittadino di Forza Italia, che sottolinea come la vicenda della pedonalizzazione di Via Cascione meriti più serietà e meno demagogia. Per Ranise la presenza del sindaco e di altri esponenti della maggioranza ai banchetti per la raccolta delle firme a favore dell'isola pedonale è quantomeno fuori luogo. Ranise sottolinea di non essere contrario in linea di principio alla pedonalizzazione dei centri storici, ma invita a riflettere sul momento di crisi e sulle infrastrutture insufficienti prima di rischiare di mettere in crisi delle attività commerciali. Nel pomeriggio di oggi il Salone dei Fiori di Villanova d'Albenga ha ospitato il Consiglio Comunale Congiunto di 37 comuni della provincia di Savona. All'ordine del giorno la discussione sulla crisi finanziaria ed occupazionale dell'azienda Piaggio Aerospace SPA. Sentiamo il collegamento telefonico Andrea Pomati con il sindaco di Villanova d'Albenga Pietro Balestra. Tanti sindaci con le fasce tricolore qui davanti al stabilimento Piaggio di Villanova d'Albenga avviciniamo Pietro Balestra, un buon nome di tutti i sindaci, lui ha convocato questo incontro con tanti amministratori e hanno risposto in tanti, signor Balestra. È un incontro per dire che cosa? Vuol dire che il territorio c'è, il territorio è coeso su questo tema, vuole che questi problemi vengano affrontati sia dall'azienda che dal governo e vengano risorti, perché non ci possiamo permettere che un'azienda leader di questo tipo con 1300 dipendenti, cioè 1300 famiglie, possa avere questa felicità appena un anno dal suo insegnamento. Ecco queste le prime considerazioni del sindaco Balestra, naturalmente poi nell'edizione di domani avremo un approfondimento perché come ha detto l'iniziativa di oggi coinvolge tanti comuni dalla provincia di Savona e anche alcune amministrazioni della provincia di Interio hanno voluto essere qui per dimostrare la loro solidarietà ai lavoratori della piaccia. Veniamo alla cronaca, la statale 28 del Colle di Nava, ancora teatro di uno spettacolare incidente che ha visto coinvolte tre auto con tre persone ferite non gravemente, mentre una giovane è stata trasportata al Gaslini di Genova, particolare in osservazione. Spettacolare incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla statale 28 all'interno della Galleria San Bartolomeo a Pieve di Teco, prima del Bivio Percesio. Secondo una prima ricostruzione due auto si sarebbero scontrate frontalmente ed una terza sarebbe poi rimasta coinvolta. Il bilancio è di quattro feriti, tre persone anziane che sono state portate all'ospedale di Imperia, ma le cui condizioni non sono gravi, di una ragazza che dopo i primi soccorsi sta invece portata al Gaslini di Genova. A dare l'allarme da prestare i primi soccorsi è stata una giovane volontaria della Croce Rossa che stava transitando nella zona. Sul posto sono intervenute le squadre del personale sanitario del 118, le equipaggi della Croce Rossa di Imperia e Pieve di Teco, della Croce Bianca di Pornastio e Croce d'Oro di Pieve di Teco. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno rilevato l'incidente. Cordoglio in tutto il ponente Ligure per la morte di Loris Ferrari, il giovane di 22 anni di Valle Croce a vittima la scorsa notte di un incidente stradale. Il giovane stava rientrando con alcuni amici da una serata trascorsa in Francia quando all'interno di una galleria sull'autostrada, il mezzo su cui viaggiavano è sbandato, urtando violentemente contro le pareti laterali. Per il 22enne non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sono ora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine per capire le cause del tragico incidente. Loris sarà molto conosciuto anche per essere un calciatore del Bordighiera Sant'Imperio, mentre il padre Diego è capogruppo del PD in Consiglio Comunale a Ventimiglia. E proseguono a Sanremo i controlli della Polizia di Stato, soprattutto volti al contrasto dello spaccio di stupefacenti. Si tratta di un'operazione a lungo termine predisposta dal questore di Imperia Leopoldo Laricchia. Sentiamo. Prosegue l'azione di contrasto della Polizia di Sanremo contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Agenti in azione nel centro e non solo della città dei Fiori nelle ultime ore. Un doppio intervento che segue quello dei giorni scorsi in contrasto appunto allo spaccio di droga. Si tratta dell'operazione della Polizia di Stato Mattuziana disposta dal questore di Imperia Leopoldo Laricchia e denominata senza fretta, senza tregua. Gli agenti del commissariato saremese in particolar modo hanno controllato cittadini stranieri. Al vaglio degli inquirenti, infatti, c'è la posizione degli extracomunitari se risultano in regola con i permessi di soggiorno. E dai controlli alcuni di loro sono risultati già noti alle forze dell'ordine. Altri invece sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di Ashish. Verifiche quindi a campione nei luoghi a rischio della città e non solo. Atti a garantire sicurezza e ordine pubblico e contrasto allo spaccio e consumo di stupefacenti, oltre che di contrasto all'immigrazione clandestina. I controlli capillari del territorio continueranno anche nei prossimi giorni. L'obiettivo è quello di rendere più sicure le strade di Sanremo. Quindi nessuna tregua per ostacolare l'illegalità e altre criticità moleste. Gli agenti proseguiranno per mesi e tutti i giorni con quattro pattuglie con le unità cinofile. La parola d'ordine è repressione e prevenzione. La disposizione di uomini e mezzi è stata organizzata dal Dipartimento per la Sicurezza del Ministero degli Interni. Solo a fine estate sarà stilato un bilancio delle attività. Anche una ragazza di Genova, Francesca Bonello, 24 anni, studentessa di medicina, ha perso la vita nel drammatico incidente avvenuto in Spagna. La Bonello era a Barcellona da pochi mesi per il progetto di studio internazionale Erasmus. Con lei sul bus della morte c'era anche un'altra studentessa genovese, rimasta solo ferita. Per ricordare Francesca, oggi sono stati programmati una messa ed una veglia serale nella Chiesa del Gesù in Piazza Mattiotti a Genova. Il rettore dell'Università genovese Paolo Comanducci e il presidente della regione Giovanni Totti hanno espresso il loro profondo cordoglio ai familiari di Francesca Bonello. E' rimane chiuso mercoledì a Sanremo dalle 11 alle 12 il centro raccolta di rifiuti differenziati in via Quinto Mansuini in Vallarmea. La decisione straordinaria comunicata dalla società Maia Energia è dovuta ad una riunione di assemblea sindacale. Il Movimento 5 Stelle torna all'attacco a due giorni dalla gravissima frana di Arenzano che ha travolto l'Aurelia provocando due feriti e tagliato in due il ponente genovese. La Liguria continua a franare sotto i nostri occhi, ha detto Alice Salvatore, portavoce del Movimento 5 Stelle Regione. Oggi è toccata da Arenzano, ma sono 15.000 le frane attive che minacciano la nostra terra, ferita da troppa incuria. E intanto, come abbiamo denunciato appena un paio di giorni prima, ha continuato la Salvatore, sono spariti altri 3 milioni di risorse regionali destinate alla prevenzione e alla manutenzione del territorio, nella totale indifferenza della giunta Toti. E noi ci fermiamo in istante, tra poco. In occasione della presentazione del nuovo catalogo di viaggi, Lightland Travel ha riunito a Genova diversi esponenti del mondo degli operatori turistici. Un'occasione per scoprire gli aspetti turistici della città della Lanterna e per affrontare anche alcune problematiche del settore. Sentiamo. Genova è assolutamente città turistica, non solo di commercio e lo dimostra con le sue dimore storiche per fortuna preservate. Sì, certo. Genova ha un patrimonio del centro storico che è stato dichiarato patrimonio dell'umanità, patrimonio UNESCO per quanto riguarda le strade nuove e i palazzi dei Rolli. Ma non dimentichiamo che anche il centro storico medievale è più esteso d'Europa. Qui si costruiscono dei monumenti che sono patrimonio della nostra storia, la cattedrale di San Lorenzo, il Duomo, le chiese millenarie, ma anche monumenti simbolo della storia di tutti, come la casa di Cristoforo Colombo, dove il grande esploratore avrebbe trascorso gli anni della sua infanzia e adolescenza. E' veramente il cimitero monumentale di Staglieno, che invece ci racconta della storia della borghesia, dell'ascesa della borghesia. I nostri vicoli sono proprio la parte più autentica, forse schietta e genuina della città. Ci sono tantissimi negozi, tantissime attività che da generazioni continuano a portare avanti le tradizioni non solo gastronomiche, ma anche quelle proprio dell'artigianato testile piuttosto che artistico. E' veramente una scoperta ogni volta che si svolta, che si cambia strada. Salvatore Obino è consulente legale di Etrin Travel, di Assoviaggi Liguria, sudalizio presieduto da Emilio Cordeglio. Ecco, oggi parliamo di turismo, ovviamente in una città splendida come Genova, che per fortuna si apre verso il turismo. Ma il turismo credo che dalle nostre parti abbia ancora dei problemi, anche di concorrenza sleale, alle volte è comunque una situazione di difficoltà generale. Beh, certo, la crisi economica ha colpito duramente anche il settore turistico, da un lato. Dall'altro lato abbiamo la nuova tecnologia, cioè internet, che ha significato un cambiamento epocale nella industria turistica. Infatti le prime ad essere colpite sono proprio le agenzie viaggi dettaglianti che sono in un certo modo scavalcate, bypassate nel rapporto diretto tra clienti turisti e fornitori di servizi turistici, cioè compagnie aeree, alberghi e quant'altro. Questo cambiamento epocale rappresenta anche una grossa opportunità per i professionisti del settore e in primo piano proprio le agenzie di viaggi, perché le agenzie di viaggi sono l'operatore che costituisce sempre un riferimento, anche fisico. Parlare con qualcuno di Expedia, di Ryanair, di Booking non è facile, invece l'agente di viaggi è il proprio consulente immediato, diretto, che è anche il riferimento del cliente quando qualcosa può non coincidere con un programma ideale di viaggio. Soprattutto se si va in destinazioni lontane, l'assistenza dell'agenzia di viaggi secondo me è fondamentale. Prosegue il lavoro dei 50 studenti provenienti dall'Università di Melbourne e del Politecnico di Milano. Si tratta di partecipanti al progetto Officina Imperio, promosso da Confindustria, è volto a sviluppare proposte socio-economiche per la città. Sentiamo. Dalle piazze, dalle vie di Imperia, qui dai Giuseppini, in una delle sale di questo complesso dei Giuseppini, trasformata in un'aula universitaria. Continua il lavoro di questi studenti, del Politecnico di Milano e della Scuola di Architettura di Melbourne in Australia. In realtà ci sono un tante nazionalità, come vediamo. È una classe davvero multietnica perché questi istituti così importanti sono frequentati da alunni di tutto il mondo, da studenti di tutto il mondo. Il professor Baracco sta coordinando il lavoro di questi ragazzi. Li vedo molto impegnati. Chi lavora al computer con fotografie prese in giro per la città, chi preferisce il vecchio lucido e la matita, un po' più tradizionale. Sì, alla fine lavoreranno tutti al computer, però questa è una fase di preparazione in cui è molto più veloce buttare giù le analisi, volta per volta con disegni alla mano, fatti a mano e poi ci sarà il tempo di migliorarli attraverso il computer. Io vedo da questa carta, qui alle nostre spalle, che avete diviso tutto il profilo della città numerando dei diversi gruppi di lavoro, uno, due, tre, quattro, fino a otto. Insomma, gruppi di lavoro, ognuno in una zona. Lei quando arrivano qui che cosa fa? Loro lavorano la mattina, vanno in giro a vedere. Il pomeriggio ci troviamo verso le quattro qui, lavoriamo alcune ore, io e i miei collaboratori andiamo in giro e giorno dopo giorno, questo è il secondo giorno, le cose diventano sempre un po' più specifiche. Allora sono ancora in una fase in cui stanno analizzando e prendendo riferimenti attraverso schizze, attraverso foto, però quello che chiedo loro è di iniziare già a capire dove sono spazi con potenzialità, per agire. Potenzialità significa spazi che magari al momento sono anche tagliati e separati, ma che con dei cambi infrastrutturali di cui ti terremo conto, tipo ad esempio uno dei più importanti, la trasformazione della linea ferroviaria in possibile parco urbano lineare e pisto ciclabile, allora capire che c'è una potenzialità di connessione tra zone che sono a nord di tale linea ferroviaria e sud. Oltre a ciò c'è anche la questione della riconnessione di altri spazi che al momento sono abbastanza problematici lungo la costa. Quindi insomma il progetto Officina Imperia veramente guarda a un nuovo disegno della città o perlomeno di alcuni angoli di questa città, in modo concreto? Sì, guarda a zone problematiche della città tentando di ridare un senso a queste zone problematiche. Il gruppo di studenti del liceo MERS di Stoccarda ha trascorso una settimana presso il liceo Cassini di Sanremo. Si tratta di un'iniziativa curata dalla professoressa di tedesco Marchiani che fa parte del progetto Gemellaggi e Scambi che coinvolge anche scuole di altri paesi europei quali Francia ed Inghilterra. Quella di sabato scorso a San Romolo sulle alture di Sanremo è stata una giornata all'aria aperta ma anche una giornata di pulizia del territorio, di volontariato e sport outdoor. Sono state infatti molte le persone che armate di attrezzi hanno pulito le canalette di scuolo delle acque piovane, ripristinato le pietre del selciato, tagliati i ruoveci e spugli. Contemporaneamente numerosi bambini e ragazzi si sono cimentati in costi invece sui sentieri. Bene, ora ci occupiamo come sempre degli appuntamenti di Riviere Venti, dell'Auto Fiori e del Quadrometeo. Grazie a tutti. L'autostrada dei Fiori ha reso noto che a causa dei lavori di adeguamento sismico al viadotto Liveto 2 in direzione Italia è stato necessario chiudere al traffico lo svincolo di Imparia Est per i veicoli in uscita provenienti da Ventimiglia fino alle 18 del 23 marzo ed ancora dalle 4 del 31 marzo alle 18 del 2 aprile salvo anticipato termine dei lavori che saranno lesi noti con appositi segnali. Vediamo allora il quadrometeo con ARPA al meteo a Liguria, le previsioni di domani, martedì 22 marzo. Permanno un flusso dei quadranti settentrionali che determina nuvolosità tra irregolare e diffusa nell'interno, ampie schiarite sulla costa, possibili isolate precipitazioni a carattere di rovescio in corrispondenza degli addensamenti più consistenti. Umidità su valori medi, venti in ulteriore rinforzo dei quadranti settentrionali fino a generalmente forti con frequenti raffiche di burrasca su tutta la regione. Mari in ulteriore aumento fino a molto mosso apponente, mosso allevante e agitato a largo. La protezione civile segnala venti localmente di burrasca da nord. Dopodomani, mercoledì 23 marzo, tempo stabile, in prevalenza soleggiato su tutta la regione. Locali addensamenti nell'interno e rari passaggi di nubi alte. Umidità su valori medio-bassi, venti inizialmente ancora forti settentrionali con locali raffiche di burrasca in progressiva attenuazione. Mare in progressivo calo fino a poco mosso, mosso a largo. La protezione civile segnala venti localmente di burrasca da nord nella prima parte della giornata. Bene, noi ci vediamo qui e l'appuntamento come sempre alle prossime edizioni. Se volete sul nostro sito imperiativ.it. Grazie dell'ascolto. Buona serata.